Tutti i partecipanti a questo vertice hanno sostenuto l'integrità territoriale dell'Ucraina perché non ci sarà pace duratura senza integrità territoriale. La pace non significa resa, come sembra suggerire il Presidente Putin con le sue ultime dichiarazioni. Volodymyr, puoi continuare a contare su di noi per tutto il tempo necessario e continueremo ogni sforzo possibile per mantenere impegnati tutti i partecipanti internazionali poiché anche loro stanno soffrendo le conseguenze globali di questo conflitto. Non è stato un negoziato di pace perché Putin non è seriamente intenzionato a porre fine alla guerra. Insiste sulla capitolazione, insiste sulla cessione del territorio ucraino, anche del territorio che oggi non è occupato da lui. Insiste nel disarmare l'Ucraina, lasciandola vulnerabile a future aggressioni. Nessun paese accetterebbe mai queste condizioni oltraggiose. Nel Presidente Zelensky e io abbiamo appena firmato l'accordo tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Il nostro obiettivo è rafforzare le credibili capacità di difesa e deterrenza dell'Ucraina a lungo termine. Una pace duratura per l'Ucraina deve essere garantita dalla capacità dell'Ucraina di difendersi ora e per scoraggiare future aggressioni in qualsiasi momento nello futuro. Penso che Zelensky sia il miglior venditore della storia. Ogni volta che viene nel nostro paese se ne va via con 60 miliardi di dollari. Lo sapete che mi piace, ma è il più grande venditore della storia e ogni volta che torna a casa dice che gli servono altri 60 miliardi. E' una cosa che non finisce mai. La risolverò prima di entrare alla Casa Bianca come Presidente eletto. Deve finire. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Buon avvio di settimana. Trump non le manda a dire, ma insomma le elezioni presidenziali americane sono ancora di là da venire. Il 5 novembre è stato un weekend invece molto intenso per quanto riguarda la politica internazionale in particolare con l'attenzione tutta dedicata all'Ucraina sia nelle conclusioni del G7 sia ieri nel Vertice per la Pace in Svizzera. Avete sentito Zelensky che dice anche che io sono pronto a sedermi a un tavolo fin da domani se Putin ovviamente lascerà i nostri territori. Le parole della Premier Giorgia Meloni. Quello che emerge con chiarezza è che il documento finale di questo Vertice è stato sottoscritto da moltissimi paesi, meno 12 paesi. Il fatto è che tra questi 12 paesi che non hanno firmato le dichiarazioni di intenti ci sono tanto per capirci l'India, il Brasile, l'Arabia Saudita, il Sud Africa, l'Indonesia insomma tutti i paesi molto importanti, i paesi del cosiddetto sud del mondo quindi si amplia questa forbice tra l'Occidente così come lo conosciamo e questi paesi ma questa non è una novità. Poi c'è l'altro fronte, quello del Medio Oriente con un duro scontro tra il governo di Netanyahu e l'esercito che ha annunciato una pausa tattica diciamo una pausa di diverse ore al giorno per permettere l'arrivo degli aiuti umanitari nel sud della striscia di Gaza quindi insomma una situazione anche qui di grande fibrillazione mentre sono ripresi comunque i combattimenti e poi due partite che ci riguardano molto da vicino che sono quella europea stasera la scena informale tra i capi di Stato e di Governo dei 27 si parla, si parlerà in maniera molto più esplicita dei vertici della nuova Europa von der Leyen sembra ancora in polposicielo ma i giochi sono tutt'altro che chiusi vedremo un vertice che dovrebbe essere anticipato da una riunione del Partito Popolare Europeo che è il partito che si è aggiudicato le elezioni europee mentre in Francia è cominciata la campagna elettorale sapete si vota il 30 giugno con il secondo turno il 7 di luglio e Marine Le Pen il cui partito sembra il più accreditato a una possibile vittoria in queste elezioni anticipate ha fatto sapere se vinceremo non chiederemo le dimissioni del Presidente Macron quindi potrebbe anche verificarsi una complicata coabitazione intanto vi presento i nostri ospiti do intanto il bentornato Ettore Greco Vice Presidente dell'Istituto Affari Internazionali bentornato buongiorno e grazie per l'invita in scelta Greco c'è Tese Tabra Abram attrice, indossatrice, attivista e anche scrittrice grazie avremo molto di cui parlare anche con lei saluto Gianni Trovati del Sole24 buongiorno saluto Antonio Fraschilla di Repubblica bentornato e saluto collegato con noi il Condirettore della Verità Massimo De Manzoni ciao Massimo buongiorno grazie Massimo vorrei partire da te perché insomma ci sono molte questioni internazionali che occupano da moltissimo tempo la nostra attenzione insomma l'attività, l'impegno di molti stati dicevo però non è da trascurare il fatto che stasera c'è questa prima scena dopo le elezioni europee tra i capi di Stato e di Governo dell'Europa come va a finire questa partita? bella domanda è veramente complicato perché sono tutti stretti tra il voto che qualche indicazione è la data e non sarebbe proprio per la continuità le dichiarazioni molto roboanti molto nette mai con questo mai con quell'altro spese dai capi di Stato anche di recente e soprattutto a fini interni molto spesso che comunque la politica interna ha un suo grosso perché in particolare in Francia dove in questo momento si stanno facendo le campagne elettorali per il voto delle legislative e la realpolitik perché poi alla fine le cose devono essere oltre che proclamate devono anche essere possibili i numeri sono i numeri hanno la loro testadura come sempre e quindi certe aspirazioni che pure erano legittime all'inizio della campagna elettorale di spostare completamente l'asse e escludere i socialisti dal governo non sembrano realizzabili i numeri non lo consentono e tutto questo ovviamente complica tantissimo la vita praticamente tutti i capi di governo compreso la Meloni che pur uscita vincitrice dall'elezione adesso avrà il problema di avere una forte contropartita in cambio probabilmente di un appoggio alla von der Leyen che le costerà molto sul piano politico perché le costerà attacchi da parte di Salvini le costerà attacchi da parte di Le Pen le costerà anche un certo rinfacciamento di essersi rimangiata una sorta di parola anche se lei è stata molto abile in questa campagna elettorale a non sbilanciarsi più di tanto e però è altrettanto vero che l'Italia deve uscire da questo tavolo con qualcosa in mano e se questo qualcosa di importante un commissario di peso una vicepresidenza passa per un appoggio tattico alla von der Leyen che ricordiamo è diverso da quello che succede in Italia non è una fiducia politica è un voto per partire per far partire la commissione ma poi non impegna nel resto della legislatura a una maggioranza vera e propria e però tutto questo è difficile da far capire a livello politico come ripeto cioè alla fine rimarrebbe il marchio e però con i voti della Meloni ci siamo ritrovati dopo il voto europeo che comunque ha scombussolato gli equilibri e che ha dato un segnale molto preciso ci ritroviamo ancora con la von der Leyen e quindi vedi che la strada è molto molto stretta è una partita molto complicata voglio sentire anche Antonio Fraschilla su questo peraltro il tuo giornale ospita un'intervista a Prod che mi pare oggi che dice Meloni deve decidere con chi stare con tutti i rischi e le conseguenze che evocava prima Massimo De Vanzoni no? Sì questo avviene nel momento in cui la situazione economica internazionale non sta favorendo l'Italia oggi proprio su Repubblica scriviamo che c'è un problema sui titoli di Stato sull'acquisto dei nostri titoli di Stato che vanno sempre più verso il mercato libero e meno verso i consumatori italiani e la BCE e quindi siamo più soggetti alle interferenze diciamo dei mercati ecco in questo contesto internazionale va considerato perché spiega perché la nostra Presidente del Consiglio ha bisogno di avere il sostegno dell'Europa di questa Europa che è uscita dalle urne qualche settimana fa a prescindere dai suoi desiderata e quindi deve trattare in una situazione molto difficile come diceva il collega perché ha un'opposizione interna cioè Salvini che non vede l'ora di sparare contro la Wonder Line e ha una difficoltà anche di rapporti internazionali abbiamo visto un po' certe tensioni in questo G7 sono emerse nonostante noi fossimo paese ospitante il governo che ne è uscito meglio dalle elezioni europee assolutamente ma deve confrontarsi le polemiche con Scholz le polemiche con Macron deve confrontarsi con gli altri partner europei in un contesto in cui l'Italia è in una posizione un po' difficile economicamente questo volevo dire quindi non ha del tutto le mani libere la nostra Presidente per fare diciamo per forzare la mano o per imporre alcune diciamo sue proposte deve mediare in una situazione molto difficile perché ripeto se la situazione economica continua ad andare come sta andando in queste ultime settimane noi avremo dei problemi di tenuta dei conti evidente tra l'altro poi a breve adesso l'Unione Europea dirà che dobbiamo diciamo ridurre alcune spese per circa 20 miliardi di euro insomma non siamo in una situazione noi diciamo per avere le mani libere e poter fare quello che vogliamo ecco allora questo era diciamo l'antipasto di stamattina andiamo in pubblicità adesso sentiamo su questa questione di altri nostri ospiti e poi insomma introdurremo anche dei temi più squisitamente domestici interni italiani a tra poco allora riparto da Gianni Trovati perché mi interessava anche un po' le ricadute economiche come accennava prima Antonio Fraschilla perché poi è curioso che il governo italiano come dicevamo prima è l'unico diciamo quello che ne esce più rafforzato queste europee però si trova ovviamente a dover fare i conti con altri due paesi fondatori dell'Europa che sono Francia e Germania ammaccate entrambe per motivi diversi e però poi pesano le questioni che venivano dette o no si pesano tra l'altro vabbè sul piano diciamo dell'economia della crescita eccetera noi andiamo anche un po' meglio di Francia e Germania quindi il nostro è l'unico governo che appunto è uscito bene dalle elezioni anche se poi c'è il dato che non ha votato nessuno però questo viene giustamente cioè giustamente inevitabilmente diciamo accantonato subito il problema è che noi ci portiamo dietro una eredità non piccola anzi gigantesca di questa follia che abbiamo fatto del super bonus che ci costerà 40 miliardi all'anno circa in termini di debito quest'anno e i prossimi abbiamo fatto siccome abbiamo dovuto fare o meglio voluto fare le nozze con i fichi secchi del taglio al cuneo fiscale della riforma dell'IRPEF fatti solo per un anno adesso ci siamo diciamo così agganciati a un cappio che ci impone politicamente di rifarli l'anno prossimo e costa circa 20 miliardi tutto questo scusa mentre vedevamo la prima pagina del tuo giornale di oggi che però come tutte le edizioni del lunedì c'è un focus in questo momento sulla casa ma non è questo che adesso ci interessa lo dico al nostro regista se no poi sviamo l'argomento tutto questo quindi ci costa una ventina di miliardi all'anno solo rimanere nella condizione in cui siamo oggi cioè col taglio alcuno fiscale l'IRPEF a tre aliquote eccetera eccetera mentre il nostro debito pubblico cresce per gli effetti del super bonus e tutto questo naturalmente con l'insieme di queste misure ci siamo agganciati diciamo così a un capio da cui è difficilissimo togliersi perché noi fin qui le manovre le facevamo in due modi se tu guardi le manovre negli ultimi dieci anni le facevamo in due modi o col deficit cioè negoziando un po' di deficit in più con la Commissione Europea quest'anno è più difficile perché il debito cresce già da solo senza che noi ci mettiamo del deficit aggiuntivo oppure col dividendo dell'inflazione l'inflazione gonfia le entrate e tu le redistribuisci Draghi ha fatto 4, 5, 6 decreti ha distribuito circa 60 miliardi di euro in un anno ti ricordi i ristori i sostegni quelle robe lì noi entrambe queste vie sono chiuse questo imporrebbe delle scelte politiche molto rilevanti cioè di correzione dei conti dicendo che se vogliamo fare una certa cosa per esempio mantenere la riforma fiscale dobbiamo rinunciare ad altre scelte politiche che non faremo e proveremo a vivacchiare anche quest'anno in attesa di tempi migliori questo mi permette di chiedere a Ettore Greco una cosa perché tornando un po' anche alla Francia io non lo so poi è tutto da vedere vedremo cosa succederà in Francia è prematuro magari adesso fare qualsiasi ipotesi però sia l'Italia sia la Francia ho visto che per esempio Marine Le Pen ha annunciato le pensioni a 60 anni tutta una serie di misure che costerebbero moltissimo cioè in effetti se vincesse la Le Pen l'abbinata Le Pen Meloni in qualche modo è lì a scardinare il patto di stabilità che ci fa che può fare molto male all'Italia o no? allora è assolutamente vero che il programma della Le Pen è costosissimo anche se le ultime dichiarazioni vanno nel senso di un qualche ridimensionamento di queste promesse vediamo fino a dove arriveranno e poi si può anche immaginare che una volta se dovessero arrivare al governo che non è ovviamente una conclusione che possiamo adesso tirare però probabilmente rivedrebbero ulteriormente un po' questo programma però il rischio che poi provino a realizzare un programma che fa sfondare ulteriormente il deficit e in Francia la situazione della finanza pubblica non è sotto controllo c'è ed è consistente anche la Francia ha un grande debito pubblico c'è un debito ma adesso il deficit è molto grave allora chiaramente per esempio la misura sulla pensione sarebbe devastante quindi tornare indietro rispetto a quello che ha deciso Macron sia pure in modo molto acrobaticamente non avendo una maggioranza con tante proteste però allora questa si innesca la questione che lei sollevava cioè che cosa può concretamente succedere se entrambi i paesi come fra l'altro avverrà in ogni caso alle penne o meno saranno sottoposti alla procedura di infrazione del deficit potrebbe essere tra giorni tra giorni e quindi gli verrà richiesto un aggiustamento ovviamente queste regole fiscali sono state approvate dalla Meloni non ovviamente dalla Le Pen anche se poi il gruppo suo di riferimento e anche la Fidelitaria ha votato contro al Parlamento europeo quindi per tenersi un po' le mani libere però potrebbe realizzarsi una convergenza nel cercare di resistere alle richieste diciamo di aggiustamento dei conti e di procedere più rapidamente di quanto previsto a rientro dal debito quindi questo è un aspetto interessante perché effettivamente noi già in passato in realtà abbiamo fatto tandem con la Francia per cercare di allentare le regole ma in questo caso con questa situazione stata descritta può darsi che il fronte sia ancora più deciso nell'insistere però naturalmente abbiamo l'altro versante che sono i paesi cosiddetti frugrali i paesi nordici eccetera che sono molto fermi nel richiedere il rispetto delle regole quindi qui si innesca e qui è un po' il dilemma che ha in generale la Meloni cioè se vuole continuare ad essere all'interno di un accordo europeo e di quanto è stato deciso finora e cercare oppure vuole combattere questa battaglia in modo diciamo molto più deciso e con i suoi alleati del partito europeo questo bisognerà un po' vedere come si realizzera certamente in questa partita delle nomine gliele verrà richiesto anche un po' un chiarimento su queste sue posizioni ma non è cosa che realmente verrà discussa approfonditamente adesso lei certamente vuole dobbiamo comunque aspettare le elezioni francesi o no per le future nomine no io penso che si cercherà di perché noi abbiamo già un percorso delineato c'è una maggioranza che si sta formando che potrebbe non essere sufficiente e ci sono dichiarazioni quindi si parla dei verdi oppure dei conservatori di giugno sì i verdi probabilmente si troverà però naturalmente se si apre ai verdi dovrà essere una piattaforma che a maggior ragione scoraggia i conservatori ad aderirvi quindi la Meloni potrebbe inserirsi in questo gioco se si complica come potrebbe complicarsi e sostenere come state detto appunto la Fonderlein ma con un appoggio tecnico diciamo per naturalmente questo le provocherebbe ma questo avete già detto dei contraccolpi seri nei rapporti con con gli altri del suo gruppo perché lei rimane a capo questo va ricordato a capo del partito dei conservatori e riformatori quindi a un certo punto questo dilemma che si è portato finora presso dovrà in qualche modo scioglierlo a chiarire ha un'abilità tattica considerevole dimostrato in molti casi però ovviamente la sfida è abbastanza seria io a tesetà voglio chiedere una cosa a proposito proprio del voto europeo di come è andato questo voto europeo perché si è detto che non soltanto in Italia ma anche in altri paesi la destra è molto cresciuta magari meno di quello che ci si aspettava perché riesce a intercettare meglio i bisogni delle persone soprattutto di chi soffre di più adesso parlavamo del patto di stabilità cioè è vero che i paesi più occhiuti i paesi frugali vogliono il rigore eccetera però in verità viene una richiesta di un'Europa cioè appunto meno attenta a un rigore troppo stretta un'asterity che insomma dia respiro anche a politiche come si dice espansive cioè quello che voglio chiedere a tesetà Abram è che dal suo punto di vista che risposta è stata quella nei vari paesi europei a queste elezioni Allora io innanzitutto sarebbe interessante capire se queste risposte siano concrete o di slogan poi io posso parlare per l'Italia sicuramente più che per tutta l'Europa sappiamo che le intenzioni di voto per gli europei e le politiche o per le regionali sono molto diverse io quello che ho cercato di fare poco prima del voto è chiedere alle persone se andavano a votare ed è stato per me interessante le risposte di persone adulte sessantenni che dicevano che non sarebbero andate a votare giovani che dicevano che non sarebbero andate a votare perché non si potevano trasferire nel paese di residenza ora quali sarebbero le soluzioni che la politica può offrire alle persone per essere un po' più vicine al voto questo sicuramente è una prima cosa che mi sto interrogando in queste settimane e poi io non ho mai percepito la politica così distante cioè noi parliamo di una politica noi siamo politica di una politica astratta teorica ma la politica quando noi scendiamo in piazza non ci sente quando abbiamo i problemi non ci sente quando le famiglie faticano ad arrivare a fine mese non ci sente la politica tutta? io parlo in generale degli ultimi anni parlo dalla pandemia in poi parlo del fatto che i cittadini noi italiani ci siamo dovuti abituare ad arrancare io domani per esempio ho appuntamento all'agenzia delle entrate quindi poi dovrò pagare le tasse e mi domanda allora è faticoso per noi seguire una politica quando stiamo già faticando ad arrivare a fine mese questo è proprio in soldoni credo per noi cittadini cioè una politica che non intercetta al di là anche di molti racconti che si fanno della politica non intercetta proprio i bisogni primari di chi è in maggior difficoltà non ci sentono il tassista con cui non è andato a votare noi non ce la facciamo io stessa io seguivo molto di più la politica ultimamente ho spento non seguo perché non ce la faccio non ce la faccio seguire le informazioni della politica teorica astratta significa che noi dobbiamo per esempio nel cinema c'è il 60% delle maestranze che sta a casa ha voglia a dire che ci danno i bonus per il secondo figlio io ho un figlio per esempio quindi ovviamente il secondo bonus neanche lo considero ma se tu dici alle famiglie diamo il bonus alle famiglie e poi gli elevi il lavoro ma che risposte sono cioè quindi le persone io per come la penso io e per come percepisco intorno a me siamo molto stanchi di slogan e di spot semplicistici soprattutto a ridosso delle elezioni questo è proprio adesso forse qualche mese di tregua elettorale ce l'abbiamo che credo che in autunno ci sono in autunno credo qualche ragione vada nuovamente al voto ma per adesso abbiamo una piccola pausa voglio rilanciare quello che diceva Tazetabram a Massimo De Manzoni cioè Massimo anche mi viene da dire limitandoci all'Italia una leader come Giorgia Meloni che ostenta questo fatto di datemi del tu io resto una persona fra la gente insomma i bagni di folla che fa però molte volte tutto questo non serve a risolvere i problemi di chi ha vere sofferenze sì lasciami dire che i governi erogano bonus ma non tolgono il lavoro cioè il problema è più complesso di così non è il governo che ti toglie il lavoro ma neanche loro è la condizione generale mentre il governo ti dà i bonus io sono non sono favorevole alla politica dei bonus però è stato scelto come modo per tamponare determinate situazioni detto questo è chiaro che il problema è a monte ed è quello che si diceva prima finché ci saranno dei vincoli così stretti il problema di dare una politica economica espansiva sussisterà del resto Erovati adesso interverrà e mi bacchetterà subito e del resto poi ci sono i mercati le partite che troppo espansive con il debito pubblico che c'è dopo rischi di avere dei contracolpi finanziari la via è sempre molto stretta detto questo io penso che tutti i governi abbiano interesse in qualche modo se non altro la loro constituency elettorale a cercare di andare di incontro questo governo qualcosa ha fatto ha fatto quel taglio di cui si parlava prima del cuneo fiscale rivolto alle persone che guadagnano meno effettivamente se noi andiamo a vedere un governo che teoricamente doveva essere della della borghesia diciamo così in realtà le mosse economiche le ha fatte tutte a favore della fascia più povera della popolazione che poi dopo con questo non eliminiamo la povertà come qualche politico si illude e proclama di voler fare e quelli sono in generale da qualsiasi parte legano gli slogan siamo anche inseriti in meccanismi sovranazionali che ti legano parecchio le mani ecco questo volevi no un sintesi nello specifico il cinema è bloccato perché i decreti attuativi non sono stati fatti non sto parlando del lavoro in generale e dei mercati internazionali che sono nata in Africa quindi qua si parla delle cose specifiche non della teoria stratta perché quando noi chiediamo risposte specifiche ci si viene a dir che i mercati stanno in crisi io da quando sono arrivata nel 90 che l'Italia sta in crisi cioè allora che dobbiamo fare noi abbiamo pure bisogno di alcune risposte oltre a risposte semplicistiche tipo c'è la crisi lo sappiamo che c'è la crisi e poi allora Gianni Trovati voglio tornare da Gianni Trovati anche perché Manzoni ha detto adesso vediamo che dice Gianni Trovati però non c'è dubbio che c'è un club quello dei 27 che è il club dell'Europa e ci devono essere delle regole comuni cerco di dirla facile però non c'è dubbio che anche questo voto una direzione l'abbia indicata all'Europa che verrà o no? no perché no? no così facciamo un po' di no per due ragioni la prima perché come dire sono elezioni che leggono un Parlamento nel Parlamento c'è una maggioranza la maggioranza è quella che c'era prima quindi insomma bene o male certo poi c'è il dato politico che i due grandi i due grandi paesi Francia e Germania che reggono al di là dei numeri della maggioranza reggono di solito l'indirizzo politico europeo ne escono parecchio ammaccati per ragioni diciamo interne però non c'è stata sta straordinaria rivoluzione che qualcuno propagandava naturalmente per cercare di accendere un po' l'entusiasmo prima delle elezioni c'è stato diciamo così uno smottamento che però nei numeri delle riassunti diciamo così da quanti sono i membri del gruppo parlamentare del PPE del PSE non è cambiato quasi c'è stato qualche piccolo smottamento smottamento a destra e l'altra roba il tema che non facciamo politiche espansive io non bacchetto nessuno perché non sono nessuno però insomma più che fare l'8% di deficit tutti gli anni per 4 anni più espansivo di così ho fatico diciamo a immaginare cosa dobbiamo fare il 12 il 15 il 50 insomma l'8% di deficit è una quantità di deficit stratosferica che non ha paragoni nella storia recente se non appunto negli anni che hanno generato il primo il primo moloch del debito pubblico il problema è questa espansione per chi diavolo la fai per il proprietario della villetta che ha preso 500 mila euro di fondi più espansiva di così dobbiamo andare anche a preparargli pranzo e cena con i soldi dello Stato mi pare difficile il problema lei diceva è dal 90 che sono qui l'Italia in crisi questo è un piccolo problema noi abbiamo al momento il tasso di occupazione in Italia più alto della nostra storia recente grandi fanfare viva fuochi d'artificio bandiere eccetera rimane molto più basso della media europea soprattutto abbiamo siamo l'unico paese tra i grandi in cui i salari anche di chi lavora perché non sono cresciuti perché è dal 90 più o meno che siamo ciclicamente in crisi e quindi se tu guardi una linea del tasso di crescita rispetto agli altri paesi è vero che quest'anno l'anno scorso eccetera si è cresciuti un po' di più ma strutturalmente cresciamo molto molto meno di tutti gli altri è sperabile che adesso questa roba sia finita ma insomma bisogna bisogna l'ottimismo della volontà contro il pessimismo e la ragione allora adesso poi tornerò da Ettore Greco perché dobbiamo dire due cose anche rispetto a questi grandi vertici all'Ucraina però voglio chiedere ad Antonio Fraschilla un'altra cosa perché se andiamo verso una riedizione diciamo della maggioranza europea per come la conosciamo però questa riedizione non può non tener conto delle proteste che ci sono state e che in parte minore rispetto alle aspettative hanno dato diciamo carica alle destre europee penso al Green tanto per dirne una adesso a parte il patto di stabilità mi pare molto più complicato modificarlo sarà molto più complicato ammesso che si modifichi e di tutto questo dovrà tenere conto questa Europa questa nuova legislatura europea o no? o facciamo finta che non è successo niente? No no assolutamente dovrà tenere conto di quello che è accaduto in queste elezioni e il Green Deal di cui parlavi sarà un elemento che sarà sicuramente diciamo un po' rivisto a ribasso penso sia nelle cose già nelle cose però su queste io non vorrei enfatizzare troppo due cose che sono state dette il vento di destra è questa Europa frugale allora il vento di destra sì c'è stato ma c'è stato un assenzionismo enorme perché sostanzialmente le campagne elettorali prendo quella italiana sono state fatte dicendo dalla destra italiana sono state fatte dicendo che l'Europa è quella che ci fa mettere il tappo sulla bottiglia ci fa mangiare le formiche l'Europa è quella che ci ha dato 214 miliardi di euro del PNRR che come diceva il collega ci consente la metà ha deficit per una scelta che è stata fatta politica la metà ha deficit la metà non è a deficit e in ogni caso è stato dato un aiuto a interessi molto molto bassi il problema è poi questa Europa così frugale e cattiva ci consente un rapporto deficit e PIL abbastanza elevato ci ha consentito anche di allargare le maglie dopo la pandemia io penso che gli italiani non sono così stupidi insomma se no sarebbero andati in massa a votare contro questa Europa cattiva e avrebbero votato in massa la destra e sarebbero andati a votare io penso che certe retoriche cominciano a avere difficoltà anche a destra per questo dico sì va preso in considerazione il risultato elettorale ma io penso che i vertici le classi dirigenti di questo paese e dell'Europa sanno anche insomma che non c'è stata questa rivolta così popolare perché l'Europa ha aiutato il nostro paese in particolare ed è difficile poi fare la campagna elettorale dicendo l'Europa ci fa mangiare le formiche quando appunto come diceva il collega una buona parte degli italiani si è fatta le villette il problema è come noi abbiamo utilizzato male le risorse e come la nostra classe politica recente e meno recente attenzione non certo solo del governo Meloni ha utilizzato quegli aiuti che sono arrivati dall'Europa e questo gli italiani lo hanno capito poi sulla lotta la povertà questo è il governo che ha tolto il reddito di cittadinanza valla a spiegare poi diciamo al paese che con i bonus risolve la povertà allora fatemi andare in pubblicità fatemi andare in pubblicità che è tardissimo adesso riprendiamo questi argomenti e altri a tra poco allora credo che anche Ettore Greco volesse dire qualcosa rispetto ai discorsi che stavamo facendo però voglio aggiungere un elemento oggi sul giornale di Massimo De Manzoni c'è una lunga intervista al ministro della difesa Crosetto che dice molte cose a proposito delle spese militari dice Crosetto no a nuovi aiuti della Nato a questi nuovi aiuti che diciamo sono stati anticipati è stato anticipato questo dal segretario generale Stoltenberg che ha parlato appunto di un piano di aiuti militari per Kiev da 40 miliardi l'anno allora dice Crosetto io dico mi sono limitato a dire la verità è un impegno che l'Italia non è in grado di rispettare oggi per noi è già difficile portare le spese per la difesa al famoso 2% del PIL tutti i governi prima del nostro dice ancora Crosetto si sono impegnati a raggiungere quell'obiettivo io invece preferisco ammettere onestamente che ci sono delle difficoltà e qui mi collego con i discorsi sull'Europa perché dice Crosetto i parametri europei rendono impossibile un aumento di spesa senza tagliare comparti altrettanto importanti come la sanità o la scuola perché poi questa è un'altra delle grandi discussioni che ci sarà in Europa e che poi alimenta probabilmente anche un certo tipo di voto o l'astensionismo cioè dobbiamo aumentare per forza di cosa le spese militari e il welfare la sanità alla scuola che fine fanno io penso che il ministro Crosetto sia apprezzabile per questa trasparenza e franchezza perché così stanno le cose l'Italia sta molto al di sotto dell'obiettivo che è stato fissato tantissimo tempo fa di raggiungere il 2% del PIL in spese militari è stata naturalmente una decisione collettiva a cui l'Italia ha partecipato e adesso si trova con una situazione finanziaria non sotto controllo abbiamo visto che le fibrillazioni del mercato lo spread che si rialza abbiamo un debito pubblico molto pesante e io vorrei aggiungere questo proposito che noi dovremmo accettare come paese non perché ce lo dice l'Europa o non solo perché ce lo dice l'Europa di fare un aggiustamento seguire un percorso di aggiustamento quando ci chiedono il 10% diciamo i 10 miliardi di euro di aggiustamento l'anno in 7 anni questo si profila anche se naturalmente se volessimo ripetere tutte le misure sarebbe molto di più però diciamo non facendo quello che abbiamo fatto finora un aggiustamento di questo genere dovrebbe essere accettabile dovremmo perseguirlo dove le troviamo queste risorse visto che si dice che non c'è una lira le risorse si trovano aumentando le tasse ovviamente attenzione aumentando le tasse lo fanno molti paesi in questa situazione non vedo la pressione fiscale la pressione fiscale è squilibrata ci sono una serie di anche i contributi sono dati in modo molto differente dai vari contribuenti dai vari settori dell'economia nazionale si può fare questo naturalmente i sostegni alle imprese si possono rivedere ci sono molte cose che si possono fare e poi naturalmente si dovrebbe rinunciare alcune di queste misure che non sono sostenibili nel lungo termine si dovrebbe fare anche se lo vuole sapere un ulteriore giustamento sulle pensioni questo servirebbe perché non è sostenibile quando si parla di sanità non è sostenibile l'idea che possa essere finanziata in prospettiva il sistema sanitario se non c'è un'ulteriore correzione sul sistema pensionistico ora questo mi consente di dirlo perché è una cosa che non si dice noi dovremmo perché se no siamo esposti e continueremo ad essere esposti ad ogni tempesta finanziaria ad ogni stormir di fronte sul mercato internazionale l'Italia è un anello debole continueremo ad esserlo perché abbiamo comunque nonostante i risultati ottenuti da questo governo grazie alla stabilità nell'abbassamento dello spread abbiamo lo spread più alto anche della Grecia abbiamo il debito più alto dopo quello della Grecia e quindi siamo in questa situazione lo rigiro rapidamente a Massimo Anzoni tutto questo sarebbe un bel problema per un governo che ha promesso altro o no Massimo? ma è un bel problema certo che lo è però fammi precisare una cosa sul reddito di cittadinanza perché io sono stufo di sentire hanno abolito il reddito di cittadinanza non è vero il reddito di cittadinanza accubava poco meno di 8 miliardi ne sono stati tagliati uno poco circa un miliardo poco più per quelli che erano in condizione di lavorare e percepivano ugualmente il reddito di cittadinanza che ogni due per tre scopriamo anche che spesso facevano lavori in nero c'erano truffe eccetera eccetera questo è successo poi è stato ridinominato in un altro modo ma l'aiuto alle persone e realmente indigenti è rimasto in proporzione molto forte appunto circa 7 miliardi bastano non bastano questo è un altro discorso ancora ma ricadiamo su quello che stavi dicendo un attimo fa tutto non si può fare se ci sono vincoli di spesa e i vincoli di spesa ovviamente ci sono perché poi sei inserito in una comunità internazionale se in un contesto anche economico di mercati di possibilità di finanziarsi io dico l'Italia ha sempre ripagato tutto il suo debito non è mai andata in default per quanto alto sia il debito e per quanto forti siano le emissioni che vengono regolarmente fatte per mandare avanti la macchina dello Stato poi alla fine noi abbiamo sempre ripagato questo debito per cui dal punto di vista internazionale certe cose si capiscono a mio modo di vedere anche pochino nel senso perché abbiamo uno spread più alto di quello greco io non lo so però so di preciso una cosa che lo spread è stato anche usato e manovrato politicamente in alcune circostanze che non sono queste ma abbiamo visto cosa è successo con il governo Berlusconi come è stato gonfiato artefattamente lo spread da una banca tedesca per cui non può essere solo quello il parametro a cui agganciarsi per decidere delle politiche dopodiché è evidente nessuno dice prendiamo e spendiamo tutto quello che abbiamo non si può fare ma è chiaro che se ti chiedono 40 miliardi per chi cioè trampa all'inizio nel servizio che mostravi un po' il punto l'ha centrato si va avanti all'infinito così è possibile andare avanti all'infinito così aspetta Massimo che questa tua ultima sottolineatura mi permetterà dopo di chiedere un'altra cosa che ho in mente adesso mentre facevamo queste nostre riflessioni prima di andare da Paolo Sottocorona do la notizia appena arrivata che Netanyahu ha annunciato lo scioglimento del gabinetto di guerra attenzione non vuol dire che improvvisamente Israele abbia deciso di interrompere i raid e i combattimenti nella striscia di Gaza ma è una questione che riguarda anche l'assetto diciamo del governo di unità nazionale sapete che c'è stato il ritiro di Benny Gantz nei giorni scorsi allora poi lo vedremo anche questo Paolo buongiorno buongiorno dici subito è vero che arriva questo grande caldo sul grande non lo so caldo sì questo è un po' inevitabile data la stagione diciamo che già la temperatura del nostro studio anticipa questo grande caldo ma insomma questo è un altro problema data la stagione dicevo evidente che quando c'è alta pressione non ci sarà insomma vento e questo contribuisce a far salire le temperature ovviamente soprattutto al sud al centro un po' meno al nord quasi per nulla anche perché il nord vedete come in questo momento viene attraversato da delle nuvole non particolarmente intense infatti gli effetti sulle altre zone non ci sono neanche le nuvole andiamo a vedere gli effetti di questi passaggi nel pomeriggio qualche debole precipitazione sulle zone alpine prealpine il verde corrisponde a quantità di un millimetro due millimetri quindi non ci sono rovesce non ci sono temporali c'è qualche debole pioggia sulle altre regioni appunto soltanto sole poi la giornata di domani con queste instabilità del pomeriggio anche ridotte soltanto alla parte occidentale Piemonte Valle d'Aosta se no sereno anche al nord e poi la giornata di mercoledì in cui tutto rimane sostanzialmente identico qualche nuvola il grigio si affaccia da ovest ma direi che per tutta la settimana lo schema è questo soltanto una piccola parentesi l'alta pressione contribuisce a far salire le temperature non soltanto perché c'è più sole e quindi fa più caldo ma nell'alta pressione l'aria scende e quando l'aria scende si comprime e quindi si riscalda quindi ci sono due effetti che giocano insieme e questo porterà qualche punta anche elevata sicuramente senza andare a 45 gradi possibilmente ti prego grazie subito in pubblicità torniamo tra poco allora cercando di gestire al meglio quest'ultima parte non abbiamo molti minuti intanto c'è una precisazione che Antonio Fraschilla vuole fare rispetto a quello quanto detto sul reddito di cittadinanza da Massimo De Manzoni che volevi dire? sul reddito di cittadinanza l'ufficio parlamentare di bilancio ha fissato a circa 3 miliardi di euro il taglio e il 40% in meno della platea ma il tema è comunque politico comunque noi possiamo criticare quelle misure come il reddito di cittadinanza e il super bonus che sicuramente hanno soprattutto il super bonus ha causato dei problemi enormi sui conti del bilancio ma sono state manovre politiche che sono state risposte ad esigenze del paese il problema è che la sensazione che abbiamo e forse l'astenzionismo è dovuto anche a questo è che oggi ci sia una mancanza come diceva la scrittrice di risposte alle richieste diciamo di un pezzo del paese si chiacchiera molto ma poi a livello concreto c'è molto poco e come diceva il dottore prima un elemento chiave oggi è quello della tassazione perché in questo paese non si può parlare delle tasse tassazione non significa che bisogna tassare tutti bisogna decidere chi tassare il vero ruolo politico è la redistribuzione delle risorse che si fa attraverso le tasse allora io devo decidere chi voglio tassare oggi è indubbio che l'Italia anche all'interno dell'Europa ha uno squilibrio enorme sui livelli di tassazione tra le fasce ricche le fasce medie e le fasce povere del paese allora è un obbrovio dire che bisogna si può tassare chi ha un maggiore profitto o un maggiore reddito o no questo è il tema se non si risponde a questa domanda noi non usciremo mai poi su questo siamo anche già ritrovati però la domanda che volevo fare prima sempre sulla scia anche un po' del risultato dell'Europa ma la questione viene da più lontano la faccio a Ettore Greco perché si è parlato molto di Ucraina della proposta irricevibile mettiamola così di Putin ma c'è però una come dire una distanza tra le opinioni pubbliche e chi governa i diversi paesi cioè stando a tutti i sondaggi mi limito all'Europa perché ovviamente la questione Ucraina riguarda come molto l'Europa la maggior parte delle opinioni pubbliche non vuole che si continui con la guerra con l'invio di armi cioè c'è questa cesura assolutamente c'è e c'è obiettivamente i sondaggi in alcuni paesi però non in tutti perché se prendiamo i sondaggi in Polonia non sarà forse così Polonia in paesi nordici in una buona parte dei paesi dell'est quindi dipende qui c'è una differenza quindi e anche in Germania e in Francia direttamente sono diversi che in Italia o in Spagna quindi anche qui l'Europa è abbastanza divisa però per esempio in Italia c'è questo gap allora naturalmente questo significa che i politici devono contemporaneamente confermare come hanno fatto perché questo è fondamentale per arrivare anche a una pace e sostegno all'Ucraina senza questo non è concepibile arrivare a una situazione anche sul terreno di equilibrio che possa portare a una pace o a qualche negoziata ma è possibile riequilibrare le forze in campo allo stato dell'arte in cui sembra che appunto la Russia abbia un sopravvento in qualche modo innanzitutto questa controffensiva diciamo ulteriore offensiva si è fondamentalmente arrestata e una delle ragioni è che stanno arrivando il sostegno concreto occidentale che si aspettava praticamente americano di queste nuove armi più potente a più ampio raggio quindi questi sostegni continueranno ad affluire quindi c'è questa prospettiva chiaramente Putin quando sente che sta avanzando e pensa di avere il tempo dalla sua parte non è disposto a negoziare non lo è stato mai concretamente quindi è chiaro che questo sostegno per consentire agli ucraini di difendersi e di fermare questa controffensiva è fondamentale se si vuole raggiungere un qualche accordo e si arriva a Trump alla Casa Bianca? Questo è un'incognita perché stando alle dichiarazioni che ha fatto sembrerebbe che potrebbe affievolire o addirittura ridurre sostanzialmente la cosa questo non lo sappiamo certamente avrà sia all'interno del congresso fra i repubblicani che sono divisi sia veramente le sue parti in una forte pressione perché mantenga questo impegno non lo sappiamo qual è la linea che prenderà certamente vorrà trovare spiragli di negoziati con Putin questo lo può fare svendendo eventualmente le richieste dell'Ucraina in un modo diciamo che potrebbe interialmente incoraggiare non solo Putin ma anche poi altri possibili dittatori in giro per il mondo ad intraprendere queste stesse strade oppure eventualmente cercare una strada più ragionevole ma al momento diciamo come abbiamo visto per tornare alla sostanza dei fatti non c'è un terreno possibile di intesa perché di fatto Putin ha chiesto venite stiamo pronti a negoziare soltanto se voi cedete tutto addirittura cedete altro territorio allora voglio farvi sentire così poi torno anche da Tezetabram voglio farvi sentire ancora un po' di polemiche in chiave italiana sulla scia del G7 peraltro poco fa la Cina con un comunicato ha attaccato il comunicato finale del G7 accusando il G7 di essere pieno di arroganza di pregiudizio e di bugie e ci ha sistemato la Cina vediamo le polemiche in chiave anche interna sentiamo il governo italiano non ha fatto nessun passo indietro rispetto a quello che è l'attuale normativa in tema di aborto di diritti agli LGBT e compagnia cantante in questi due anni e quindi le vostre aspettative sono state o le aspettative di alcuni diciamo sono state come dire insomma deluse però probabilmente sono state deluse perché il racconto non corrispondeva alla verità noi continueremo a difendere i diritti delle persone LGBTQIA+, nonostante il governo abbia perso un'altra occasione durante questo G7 dove magicamente sono sparite alcune parole è sparita la parola aborto è sparita la parola identità di genere è sparita la parola orientamento sessuale penso che i cittadini italiani si debbano interrogare su quale sia l'amore che hanno per la loro nazione esponenti politici che cercano di provocare per ottenere un risultato come quello che hanno ottenuto dileggiando membri del governo cercando di occupare i banchi del governo quello che interessa a me punto primo che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di chiaramente competenze delle quali ci si dovrà occupare quando si formerà la commissione ci saranno i commissari allora nelle immagini anche appunto questa partecipazione straordinaria storica del Papa di Papa Francesco al G7 a proposito soprattutto di intelligenza artificiale Tezeta Abram lei sente in qualche modo minacciati i diritti civili in Italia con questo governo non è che lo sento io mi sembra comunque un dato di fatto che molti dei diritti civili che si è tentato di dare negli anni passati ce ne sono sempre meno ma su questo devo dire quello che a me riguarda che è la riforma della cittadinanza italiana su questo chi ci ha tradito è stato Renzi con il PD quindi noi ci ricordiamo diamo a Cesare quel che è di Cesare quindi questo è l'aspetto che più le brucia sulla cittadinanza con Renzi anche il Jobs Act in realtà è riuscito a farmene due malgrado e abbiamo sistemato Renzi che già si lecca le ferite per conto suo dopo quello che è successo alle europee aveva detto che non si sarebbe più ricandidato insomma in politica diciamo le incoerenze le troviamo da una parte e dall'altra adesso ma insomma rapidissima battuta da Massimo De Manzoni cittadinanza sentivi dice qui io non vedo assolutamente nell'applicazione pratica nessun arretramento di diritti di nessuno non capisco a che cosa ci si riferisca sono polemiche totalmente pretuestuose la legge la legge 194 non è stata abolita è ancora lì la si vuole applicare integralmente? beh sì certo ma perché no? perché non deve essere applicata integralmente una legge che prevede due facce della medaglia per cui non capisco i diritti delle persone omosessuali sono stati conculcati negli ultimi due anni in Italia c'è qualcuno che è stato privato di qualcosa non mi pare non vedo è solo una polemica politica che vabbè ok ci sta ma non capisco perché la deve fare una scrittrice mi importa delle situazioni concrete delle situazioni legislative concrete in cui in questi due anni è stato fatto in maniera concreta sentiamo rapidamente un attimo Massimo la risposta in maniera concreta intanto per esempio già che al G7 in un contesto così importante risulti polemico dover parlare di aborto quando era qualcosa che era previsto e invece è stato nascosto e c'è stata una polemica su questo già questo dovrebbe farci capire che c'è un problema di insomma posso fare vedere di Tesetabram questo è un romanzo si chiama Nostalgia per Harper Collins che è un po' la sua storia sì per replicare cosa perché dovrebbe parlare una scrittrice perché io in questo libro parlo di quanto sia burocratica l'Italia non solo per gli italiani cosa che sono diventata anche io alla faccia di chi vorrebbe che noi non ci consideriamo italiani persone con il mio aspetto fisico diciamo no no certo è un tema anche questo e quindi qual è il tema qui il tema è che l'Italia è un paese fortemente burocratico che ha stancato gli italiani caucasici figuriamoci quelli che come me sono arrivati qua dal deserto con l'aereo perché io sono arrivata con l'aereo quando si arrivava con l'aereo non con la barca quindi io ne parlo perché mi rendo conto che il mondo sta cambiando in peggio dopo la pandemia ci aspettavamo che il mondo migliorasse invece ci ritroviamo in mezzo a due guerre e con tanti politici che fanno le passerelle ma non ci danno risposte quindi ho voluto scrivere questo libro intanto per ricordarci che c'era un mondo comunque un pochino meglio e io invece all'epoca lo soffrivo quindi intanto per lasciare testimonianza per esempio però adesso in Italia come si trova? io non ho ricevuto risposta però io non ho ricevuto risposta lei sicuramente no ma qualcun altro sì probabilmente qual è l'atto legislativo fatto negli ultimi due anni che limita diritti delle persone? per esempio se vuole nello specifico per quanto riguarda noi cioè gli stranieri ormai io non lo sono più prima la cittadinanza si otteneva in 180 giorni per legge e Salvini l'ha allungata a 4 anni 4 anni che si sommano a una serie di difficoltà che io scrivo in 270 pagine di certo non le posso sintetizzare no no salgia ma chi fosse ovviamente incuriosito Salvini non l'ha fatto quest'anno comunque allora facciamo Salvini sta comunque in questo governo o no? sta in questo governo ma stiamo parlando di un governo di un altro governo che invece i diritti li portava in palmo di me il governo che ha fatto il reddito di cittadinanza per esempio allora voglio c'è troppa confusione questo governo non ha fatto niente contro i diritti punto no non ha fatto proprio niente allora un attimo blocco i contendenti i blocchi i contendenti Davide buongiorno buongiorno a te beh direi libro assolutamente da leggere quello della tua ospite intanto fammi dichiarare che nonostante una fortissima allergia agli occhi sono quindi non mi sono fatto nessun intervento come dire migliorativo anche perché sarebbe totalmente diciamo inutile come mi fanno notare i miei autori ma una forte allergia agli occhi non mi ha impedito comunque di essere qui e ripartiremo dal vertice che questa sera ci sarà a Bruxelles la cena dei capi di stato e di governo per decidere i vertici delle nostre istituzioni noi siamo reduci da queste due immagini da una parte la taranta la pizzica ballata dalla nostra premier Giorgia Meloni e dall'altra il ballo di Ellie Schlein al Pride insomma il ballo delle debuttanti l'abbiamo ribattezzato così e partiremo da qui da queste due immagini la Schlein che torna in piazza e prepara la manifestazione di martedì e dall'altra Giorgia Meloni che prova in qualche modo ad incassare quello che secondo lei è stato un grande successo questo G7 ma su tutto arrivano le dichiarazioni di Scholz che ha i giornali tedeschi il presidente tedesco il premier tedesco ha detto Meloni è una leader di estrema destra questo detto alla vigilia del vertice europeo diciamo non lascia ben sperare su quelli che possono essere i rapporti tra l'Italia e la Germania ne parleremo torneremo sull'inchiesta di Fanpage avremo ospite cancellato il direttore il direttore di Fanpage quella famosa inchiesta andata in onda su piazza pulita dentro una sede di Fratelli d'Italia vedremo che cosa accade e poi Bertinotti e Antonio Polito per fare il punto su tutte le grandi questioni anche internazionali a tra poco grazie Andrea grazie grazie David Parezzo chiudo già ritrovati un flash credo che in settimana si saprà qualcosa in più sulla procedura di infrazione nei confronti dell'Italia mercoledì si saprà che siamo in procedura di infrazione anche la Francia anche la Francia e altri 10 paesi no lo dico perché questo sarà un'altra di quelle cose che certo non mette di buon umore gli italiani verso l'Europa poco fa c'è un flash via libera dell'unione alla legge pro natura no dell'Italia si come al solito noi abbiamo fatto anche no al Green Deal annunciato perché riguarda il Green Deal noi abbiamo votato no al Green Deal abbiamo votato no a un sacco di roba infatti questo è il problema se tu passi mesi di campagna elettorale a dire che quelli sono dei matti che fanno delle robe che non stanno né in cielo né in terra poi hai voglia il voto tecnico per far partire la commissione non è una fiducia eccetera però se io dico che tu sei matto che hai fatto delle robe che folli col Green Deal eccetera e poi ti rivoto alla presidenza della commissione qualche piccolo problema insomma ne vedremo delle belle per quanto riguarda anche l'Europa stasera appunto la scena informale tra i leader dei 27 ringrazio intanto tutti i nostri ospiti grazie a Ettore Greco grazie a Teseta Abram grazie a Gianni Trovati grazie a Antonio Fraschilla grazie a Massimo De Manzoni noi siamo qui in perteriti domani stesso luogo stessa ora grazie c'è l'aria che tira adesso